Ciao carusi, oggi ho deciso di fare il punto della situazione perché domenica si avvicina dopo questa settimana di vlog, di sette vlog a modo mio io deciderò di mettere delle cadenze regolari, delle cadenze settimanali sicuramente uscirà una volta a settimana un episodio di Giovane Siciliana dopodiché credo anche un vlog a modo mio volevo sapere, c'erano altri format che io avevo abbandonato e voglio sapere da voi se magari vi piacciono se... botta risango, accusaccio io ci sono dei format che io avevo abbandonato e vi voglio chiedere se siete interessati di nuovo a rieverli perché avevano fatto tutto il suo successo, vai, io sono sincera uno di questi era l'aniamania manging, cioè io mangiavo le cose mmm, ponte stelle diciamo che io ero all'inizio del mio canale ero un po' ero più timidina e poi questa cosa di mangiare di fronte ad una telecamera mi nibiva da morire cioè sì, anche ora mi nibisce però... no, non va più sciolta poco oh 17 obiettivi di bir' un'estate ah!! ahhh ahhhh ahhhh esplosioni addominali e dovrei abbronzarmi un po' scatenarmi lì evo scatenarmi e traspl Đ Manco di concentrazione, non ho volontà Soffro lo stress, io soffro lo stress Sono in una boy band, sono in una boy band Ci deve essere un errore Soffro lo stress, io soffro lo stress Faccio un passo ed ho piadone Come ora, da adesso sono in una boy band Sono in una boy band Senso del pudore Perché pensavate voi? Oggi Animania non canta e invece no Perché a me piace cantare E quindi ogni giorno vi sto proponendo un brano che mi piace Quindi io canto, canto, canto Perché se ci sono gli altri youtuber che fanno le cagate Perché oggi mi sono imbattuta in alcuni video Ma non voglio raccontarvelo Ve lo farò semplicemente vedere Facendo delle parodie su di loro quando mi verrà l'ispirazione È stato Faccio anch'io quello che cavolo mi pare E almeno spero di fare ridere i miei iscritti Le challenge Che... Perché devo dire una cosa È come se le challenge unissero tutti i youtuber In un modo o nell'altro Ed è una cosa che non mi dispiace affatto E l'unica cosa è che Io mi documento a volte Io conosco alcune challenge Ma mi piacerebbe molto che foste voi a dirmi Fai questa challenge Piuttosto che fai quest'altra eccetera Mi fa piacere che voi mi diete dei consigli Poi perché magari volete vedermi Mentre faccio l'idiota In una di queste challenge Giovane siciliana E già l'ho detto Lo sapete Antonio Saranitro Non ti deluderò Parodie Non possono mai mancare Se voi avete qualche richiesta particolare Per qualche parodia Scrivetemela nei commenti E io nel corso di questi mesi O delle settimane Cioè non siamo così catastrofici Cercherò di accontentarvi Il vlog di oggi finisce qui Oggi vlog organizzativo E qui tutto a posto Tutto bene L'omeriggio E basta Cioè nel senso che Il mio canale lo fate voi Perché io sono contenta Se voi mi date consigli Ma perché io sono una persona solare Cioè io sono andata a mare E mi sono messo il costume per i zoma Però io ve l'avevo fatta La crema rossodante per le cellulite Ma se voi non l'avete usata Io l'ho usata E allora il sedere in questo modo Ma allora perché non lo devo fare vedere Che mi commentate Mi commentate Cioè io sono una ragazza pura Una ragazza sincera Una ragazza umile Ragazzi E niente Vi saluto Il video di oggi finisce qui A mia mania vi dice Ciao carusi E niente Ciao 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 Ciao